Ragazzi, voi dovete aiutare. Il vostro primo disco è stato un successo storico. Adesso siamo in crisi. I soldi sono quasi finiti. Il vostro secondo album, eh? Lasciamo perdere. Ma guardatevi, come vi siete ridotti. Io non lo dico per me. Ormai la mia carriera l'ho fatta. Voi siete giù. Datevi una ripulita. Tornate come agli inizi. Scrivete un pezzo come si deve. Altrimenti siete morti. Siamo tutti morti. Vi ho prenotato un posto. Tutto per voi. Un posto esclusivo. Concentratevi. E scrivetemi un pezzo come ai bei tempi. Ma c'è la piscina? C'è tutto. Bambine mia, siete contente? Stanno arrivando gli zii. Belle. Belle. Un posto esclusivo. Eh ragazzi, l'indirizzo è quello giusto. Eh ragazzi, bene arrivati. Vi stavamo aspettando. Cazzo! Ma come vi siete combinati? su andiamo? mille grandi... su andiamo? ok divertente davvero scherzo è riuscito ora dacci l'indirizzo giusto oh i nostri giorni ben arrivato accollati vado a prenderti i biscottini i tuoi amici li hanno mangiati tutti a proposito quanto zucchero a mente? niente zucchero vabbè ce l'andiamo? non possiamo quello stronzo è stato chiaro o mi date il pezzo del vostro contratto finisce nel cesso eh? ha detto cesso quella quella è la nostra soluzione ecco i biscottini ai non ti immagini le mie bambine ed ora signore e signori ecco la stanza della più grande band rock negli ultimi 300 mila anni i letti nell'ordine sono per ginger alla chitarra al basso frank alla batteria roger e leader massimo johnny che schifo di camera e che schifo di canzone voglio tornare a casa l'hai sentito il produttore o canzone nuova o è meglio non muoverci da qui prima ce ne andiamo prima facciamo prima ci facciamo e prima ce ne andiamo prima facciamo prima ci andiamo prima ci facciamo prima ce ne andiamo ragazzi da soli non ce la possiamo fare i biscotti non ci hanno aiutato molto eh ma un po' di marijuana cosa vuoi che ci faccia? vi ricordate i vecchi tempi? si mi sembra di ricordare qualcosa va bene dobbiamo prendere una decisione tutti insieme che è disposto a tornare a stimolarci per scrivere il pezzo nuovo? io di soldi ne ho quanti ne voglio lo sai quanto tempo ci ho messo per uscirne non ho intenzione di fottermi di nuovo che si fottermo tutti gli altri a me non dispiacerebbe ma insomma ci ho già perso qualche neurone di troppo ah io da quando posso permettermelo le droghe le scelgo io ecco l'attenzione bene siamo d'accordo allora si abbiamo deciso calma calma e amico tutto ok? si si ti devo parlare non è che avresti qualcosa di più forte di quei biscotti prima facciamo e prima ce ne andiamo prima ci facciamo e prima ce ne andiamo zitto ginger zitto ci facciamo e prima ce ne andiamo manca il finale prima ci facciamo e prima ce ne andiamo ancora un altro giro me ne serve ancora certo aspettavo questo ciao 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 No, no, no. Lascialo stare, sta scrivendo. Lascialo stare, sta scrivendo. Lascialo stare, ho detto! Prima ci facciamo, prima ci andiamo. Prima ci facciamo, prima ci andiamo. Prima ci facciamo, prima ci andiamo. Frank, sta prendendo una figata. Frank! Ginge svegliati Ginge mi servono le tue corde per il finale Sta zitto Ginge mi servono le tue corde per il finale Ce ne serve di più? Come vedete il finale? E' bellissimo Bene, allora brindiamo a me, alla musica e alla tua percentuale Sono un antiche di caldero You're walking through your shadow Thank you Thank you Thank you A che sentiamo non mi appartiene? 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 Grazie.